L'ho preso! L'ho preso! E' qua davanti a noi! Capito! Ma mia! Eh, poverino! C'è infisso col panning, esatto! Questa non aveva niente! Non aveva le armi! Pensa a te! Cazzo devono fare questi! Un'altra qua dietro! Ehi! E' di dietro! Ostia! Mi ha preso in pieno! Occhio! Capito! Aspetta che mi sto curando! Morto di recetto! Sta venendo qua da noi! Lo vedi? Capito! Capito di nuovo! I'm bleeding! Non riesco a prenderlo! Ok! C'è l'altro fugito lì dietro! Gritto! Gritto! Guarda, guarda! Lascialo morire! Lascialo morire di bleeding! Guardalo! Ho preso pieno con la flash! Ho preso pieno con la flash! Vai! Vai covrimmi! Bello! C'è più nessuno! Perché gli altri ci sono già uccisi tra di loro! Ah, è stato mega f*** festa la locazione marina! I due che abbiamo preso sono... In effetti è strano che nessuno abbia ancora! No! È rosso! Però non lo stanno facendo! Perché non si sente! Sì, erano qua da aspettare noi! Esatto! Sì, è tardi! Quindi swipe delle case! Meno ad uno! C'è il pompa che ti fotte! Eh, vabbè! Però... Resta, resta, resta che ci stanno sparando tra di loro! C'è più di gente tra di loro! Ma vabbè, resta, resta! Siamo di qua, siamo di qua! Pronto, apro? Eh sì, vai! Vitto! E davanti! Non so dove è andato, se adesso è sinistro! È in bleeding, è in bleeding! Guarda me! Morto! Mi puoi pure lui! Coglione! Mettiamolo, va! Mettiamolo! 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 Sto arrivando! È qua dietro, eh! Dietro l'angolo! Tu guarda che non ti esca a destra, io ti guardo qua che non esca a sinistra! Mettiamolo! 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 Remo! Tampoco! F***! E facciamo anche il boss! basically erano tutti qua firmi ad aspettare che qualcuno facessero il boss! Davvero, guarda che vedi quanto fa schifo la gente in sto gioco Vedi quanto fa schifo Guarda dentro questa casa qua Tira lì lei, la flash C'ha anche lei una bomb lancer Va dietro Headshot Bello 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 Visi 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 è uscito 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 qua dietro qua giallo ah ecco mi sembrava di aver visto un ombro più a muoversi prendiamo il boss grazie ma per chi cazzo mi hai preso ma per chi cazzo mi hai preso deficiente ignorante capra vabbè ma non è non l'ho colpita no no l'hai presa ma con l'upper è morta godo dietro rimedio sparami non ci credo è riuscito a schifare no l'hai colpito l'hai colpito perchè io sennò non potevo shottarlo ok libero no visto te ora sei girato da me sotto di me il tipo uno è qua preso l'altra sotto di me qua bello c'è l'altra gente però stavano combattendo eh non mi sparano via via back 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 stanno arrivando l'altra gente è sicuro questo qua sto un pompa sto sparando dalla casa di christ non sta proprio bene occhio un armoled che ti sta arrivando addosso teniamo la distanza perchè non mi sembra un genio questo eh wow iniziata qua dall'angolo occhio così per intimorire guarda lì e guarda qua guarda lì a sinistra a sinistra fine merda mi sono pesciato anch'io però preso uno l'altra qua allora fai il giro zitto eccolo finisci no Cazzo Eh niente ci stavano Niente che ti stavano facendo lo stesso giro Eh da qua proprio da me erano tutti insieme Cazzo Eh in caso Adesso ha il shot Vieni saltiamo Aspetta dobbiamo eliminarmi Vieni Stiamo un po' pronti Sei morto fuori Hai uno zombie dietro Te l'ho colpito Colpito? Vedi perchè ti ho detto Tentacolo Qua c'è un medic che ci serve Perfetto Mi scaduta Occhio, occhio, cominciò che arriva l'altra sinistra L'altra qua Se ero lì così sentiamo che Se la resta no Va Sopra di me Sopra di me Sopra di me Ah, quindi Eh sì Ah è qua, qua, qua Sempre il... Capito Perfetto 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 Eccolo Quello Mi ha detto Perfetto Oh Tu No e io come cazzo ci passo ci sono quelli da dentro era sopra vero? si era all'angolo qua sopra sa che era ferito a morte perchè poverino ahahahah, ho spara tagadaci no precede e' so nei-rima, oh Oh, adesso! Vai, vai! E' ucciso, ok! Niente, senza paura questo! Vabbè, va bene! Oh, figlia di puttana l'avevo vista! Mi è uccisa, fuori dito l'angolo, qualsiasi alberi qua! Ho preso uno! Oh, è un po' da me! Porco Dio, che botte che ho preso! Ci sono ancora i due tizi! Quelli fuori! Vado già a prendere l'altra bounty C'è una bounty per terra qua! Tutta la gente per terra, ma... Ci sono ucciso di cenda! Dai un'occhiata! Non vedo nessuno! Che cazzo succede? Ti sono ammazzati tutti! Eh sì, perché guarda, questi sono uno contro l'altro! Uno, due, tre, quattro! Oh, Gesù Cristo! Oh, Gesù Cristo! Non ti curare, che qua c'è un medico! Ti vieni! Eh, proviamo che adesso ho perso una grossa da 50! Eh, vabbè, stai fuori col mondo! Qua! Gente, gente qua! Gente, gente qua! Ma qua in mezzo, deve essere fermato qua in mezzo ci spuglia! Ehm... Eh, meh! Vedete le cose buone da lanciare! Ma c***o spavendo! Ma c***o! Ero davanti a noi! Figlio di troia! Figlio di troia! Mi ha fatto c***are di me! Vogliamo andare a fare il boss? Noi? Quello sopra? Hai recuperato la barra? Ah no, ok! Loro... Loro qui erano la... Il regnone! O voi... Vogliamo provare a imbroccarli! E aspettare che vengono loro da noi così c'è tutta la barra! Ma no, dai, imbrozziamo! Ci facciamo l'altro con caldo! Eh, dai per scontato che vinceremo! Ahahahah! Beh, mi sembra ovvio! Adesso guarda eh! Questa frag vedrai! Adesso! Non so cosa è successo ma... Presa, presa! Adesso fai andando avanti sulla sinistra! No, l'entrata che c'è l'altro! L'entrata che c'è l'altro! Eh no, sì! Dov'è? Hai visto? Sì! No! Qua sotto sotto! Odio! Che giocatori! Occio! Che giocatori! Che giocatori! Fai andando! Sì! Si è andata sulla sua stessa concertina! E quindi dentro a cannone ci sta bene! È stato il segnale! Non so cosa sia successo, ma... IA! Sono davanti a te, occhio. Fuori, in fondo a destra. Spito una volta. Preso uno. Mi ha lanciato un hive o un altro, mi sa. Oppure c'è un hive. Bello! Hai preso un barile? Sì, l'ho visto lì sopra. Sto tirando qualcosa. No, ci sta andando contro! Cazzo! È 50 e 50. Parte sbagliata. È il reverendo. È stato un duello, è stato un duello incredibile. Diciamo così. Aspetta di nuovo. Andiamo a entra cazzo duro, vai. Sì. Ti hanno di sopra? Sì. Bellissima! Bellissimo! Era flashato! Sei seduto qua! Allora! Non ci stai da qua! Allora, ho efficiento qua. Non ci stai da qua. Non ci stai da qua. Vabbè è sta da qua. Allora, non ci stai da qua. Va! Vabbè! Lo sento dalla parte di qua Entro da giù Madonna Non posso È ancora morto Stasera è ancora morto Merda Un'altra hive No Uno è uscito da dove sono entrati L'altra è qua dentro I tuoi Adesso va Un'altra 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 1 dentro e 2, 3 fuori, più i trabombi. Ah, quindi sono due squadre. Sì sì, uno è dentro con un altro fuori, mi sa qua i mercatini, ce n'è uno alla cazzo di casa. Eccolo là, preso hatchet, oh dio, finchia, sì davvero, è stato devastante. Passo giusto in tempo a vederlo a mezz'aria, anch'io, ha il compagno, presa pure lei, non è morta qui, vai vai, ma è in casa? No no, qua fuori è proprio all'angolo, proprio il mio ping, si è curata, dietro la casa. Non ho capito. L'hanno preso, l'hanno preso, non sto facendo, non sto facendo, non ho preso. l'ho venuto a questo che ci dà un secondo. Porca puttana. Preso hatchet. morto qua all'angolo. Corriamo dentro perché il tizio è rimasto da questo, si arriva. la legge siamo noi. Vabbè, non devo farlo. Vediamo se no mi sparerà instant. Aspetta, c'è, c'ho che tiro lì alla finestra così vengo anch'io, non mi hanno venuto insieme. La finestra qua, la di sinistra. Poi non so se... Ecco Dio, dovrei tirare. Legnetto. Vabbè, comunque dovrebbe... Merda, ma l'ho fatto? Tornando gente, tornando gente, tornando gente. Baccherato. Dov'è? 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 Torno indietro? Aspetta, aspetta, forse no. Non ti far vedere, sono esattamente il fianco a me. Preso. Non m'ha sentito. Qua i camion non ci sono più. Ah! Qua sotto! Ah! Ah! Dead from above! Cacolo di là. Uh e fermo cazzo qua. Li stanno sparando! Li stanno sparando? Sì. Sono girati, stanno sparando alle spalle e non stanno prendendo Oh! Hai preso il... Il seneretto! No, ma dai! Eh, ho visto! Hai detto questo albero qua? Non è morto, però, cazzo! Ok! GG! Da qua davanti, qua davanti, qua davanti, qua davanti! Madonna, mi sono fatto malissimo a scendere da lì! Piccolo negro! Preso! Capito! No, cazzo! Ho appena curato! Bellissimo! Capito! Headshot! No! Bellissimo! Ha visto! Preso! Bello! Quello era? No! Era camicia rossa! Ok! Allora, questo è il compliance! Perfetto! Era questo! Eh! Ah! Altrettanto... No! preso 1 curati curati è morto qua fuori di là quindi ho sparato un barile esplosivo perché lo colpite lo colpite era ancora lì era ah ok io l'ho colpita una volta va che sarà senza andiamo perché sarà senza cure porca pittà preso fermo gente gente dietro di noi preso uno altro e poi dietro questo comulo qua lì è bingo l'ho fatto comincia a blu ok stanno andando sono in fondo di là preso è saltato sulla dinamite da là in fondo pariando altra gente ecco qua lo vedi sì vai sparo in testa merda bravi l'altro qua in fondo o è uno zombie o là in fondo dietro qua ci stiamo ma ho preso te no oddio no 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 L'altro no sono in vietro quando si passa questo è quello che si parano ah cazzo ma preso è la casa preso sono vivo sono vivo per poco ma sono vivo non entriamo qua davanti a me No, non salta Presa una Ma qua anche l'altra, sono tutto dentro Oh che culo di merda Sono restabile, resta in fretta Che c... Ah, è ciottato attraverso il muro, non ci posso credere No, vaffanculo, tutto a sinistra Niente, lascia stare Dritto di lì davanti a te, bravo Lì, in fondo però Oh, l'hai presa, vai vai Lì all'angolo adesso Ma non ci credo Davanti a me Qua dietro Vedo che mi abbia visto No Botta Botta C'era un'altra, c'era un'altra Flash? No, non ho idea di dove Però in una direzione Ah, è dovrà morto Per avercele Credo che sia qua dietro o qua dietro No, dritto di qua Scusi, dietro però 225 Dietro i coboni di paglia Scusi, abbiamo visto Scusi, abbiamo visto Punto Vabbè Va bene No, non't Non corri in faccia Qui c'è un romeno Che porno ok c'è non sono più di lui ahi la cazzo questa volta mi ha visto ma quasi ucciso preso lo preso vabbè l'ultimo che cerco di dare fuoco punto più o meno il save da dove entrare ah perché c'è la clou quindi sembrava di rosso ecco perché oh porco dio adesso mi tocca cercare un'altra lanterna oh è qua sopra ostia bastardo nooo l'altra è sotto ho preso azzeccato ho preso la bounty ah lo so and now i'm burning bello bello pensi che sono stronzo fuori 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 di mezzo sei come di merda qua tu non hai più io dovevo avere ancora una flash no dove cazzo mi ha sparato sii preso vai morto di fianco all'angolo all'angolo per caricare no non ho finito le armi vai vai carichiamo porca puttana porca puttana wow wow oh ma oh ma oh ma oh ma oh ma oh ma incredibile incredibile senza più un cazzo non ci posso credere